Intanto abbiamo raggiunto questa famosa quota 60 che è da tutto aprile che ci dovevamo arrivare invece non riuscivamo a arrivarci, infatti la politica di piccoli passi un punticino ci ha permesso di arrivare a quota 60 Stiamo lavorando per cercare di tornare a vincere ed essere competitivi e perlomeno lottare il campionato fino alla fine quest'anno non ci siamo riusciti, è stata un'annata dove abbiamo avuto delle vicissitudini dentro e fuori dal campo quindi bisogna essere bravi a finire nel miglior modo possibile perché abbiamo ancora due obiettivi importanti davanti e belli da raggiungere, deve essere uno stimolo per tutti noi